Allora, io ho appena finito di parlare con il maresciallo con la quale lei ha parlato in ufficio ad Arluno, il mio maresciallo, che è già parlato con lei, per questioni e vicende vecchie. Come si chiama? E lei già sa, è il maresciallo di Arluno, dove lei ha parlato in ufficio e mi ha detto di riferirle, che è un maresciallo che conosce sia lei e sia suo figlio quello che abita a Rò, e mi ha detto di riferirle, che domani mattina risolveremo la questione, sicuramente, lei gli verrà fatto un trattamento sanitario obbligatorio presso l'ospedale, verrà ricoverato immediatamente all'ospedale e verrà denunciato perché non ha dato le generalità e il documento. Questo le dico, e finisce qua. Così vediamo se ha ancora voglia di prendere in giro i carabinieri. Domani si risuove tutto, per stasera va andato a dormire, però per il fatto che non ha aperto la porta, non ha dato un documento, domani verrà ricoverato presso l'ospedale, da noi, obbligatoriamente, che lei lo voglia o non lo voglia. Buonanotte.